Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ribadisce oggi con due interviste quotidiani che l'arresto di Messina Denaro è limpido e senza retroscena, oggi in Parlamento sulla riforma delle intercettazioni, riferirà poi il ministro della giustizia Nordio. In studio con me c'è Andrea Bovio. Sì, per il ministro Piantedosi la cattura di Messina Denaro è una vittoria dello Stato con un valore fortissimo anche dal punto di vista simbolico. Non c'è stata alcuna trattativa, afferma Piantedosi, non c'è nessuna retroscena da svelare, soltanto il duro e lungo lavoro degli investigatori, dei magistrati, delle forze dell'ordine. Naturalmente la guerra contro la mafia continua, quindi Piantedosi sottolinea i due punti cardine dell'azione dell'esecutivo. Il primo è l'ergastolo ostativo che non si tocca e poi ci sono le intercettazioni che restano uno strumento fondamentale per le indagini. Nessuno, afferma Piantedosi, ha mai pensato di modificarle per i reati di mafia o di terrorismo. Una linea che è stata espressa ieri anche dal ministro della giustizia Carlo Nordio che invita semmai a riflettere sull'uso che delle intercettazioni si fa, sugli abusi che delle intercettazioni si fa per i reati minori e su alcuni aspetti come la pubblicazione di elementi personali che nulla hanno a che fare con le indagini. Una linea su cui sostanzialmente la maggioranza è compatta dall'opposizione. Il terzo polo, Azione Italia Viva, invita a evitare intercettazioni a strasci, con mentre restano le critiche, soprattutto di 5 Stelle, secondo cui modificare le intercettazioni sarebbe gravissimo. Dubbi anche dal Partito Democratico con l'ex ministro della giustizia, Andrea Orlando, che invita a mantenere le intercettazioni anche per i cosiddetti reati spio, ovvero quei reati a partire dai quali spesso le indagini si possono allargare, anche a comportamenti di tipo mafioso. Andrea. Grazie ad Andrea Bovio. Grazie a tutti.